Cosa dire? Questo è il fossato del parco San Leonardo. Inghiamo qui. Guarda, guarda. Questi che sono? Ma questi mi sono fatti piantati, questi forse non c'erano. O sono spontanei, non lo so. Guardate com'è bello, guarda, guarda, guarda. Queste palline, oh. Scendiamo di qua, il ginestro. Palasconi, qua, puli il cinghiale. E' venuto, si? Famiscente, con precauzione, però ci vuole anche agilità. Guardate che meraviglia. Ci troviamo al parco San Leonardo. E' un certo punto. E' pieno di roghe e di spene. Vabbè, procedo da questa parte. Questa è transitata dai cinghiali. E ci mettiamo qui. In uno spazzo, si? Qua ci sono spene. No, spene, non spene, montagna. E' naturale. Quella, con l'erboso, ci sono stato. Ma il prossimo giorno mi organizzo. Ogni giorno faccio una escursione, un itinerario diverso. I itinerari sono infiniti. Alla scoperta dei sentieri dimenticati e nuovi sentieri inediti. Quindi che 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 che